Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive, nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Viagon in 56, Milano. Il programma è offerto da Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive, Buonasera gentili telespettatori, benvenuti ad altro studio sport. Un saluto da Simone Togna. Fisco di inizio per noi, vado subito a presentare i nostri ospiti. Buonasera e benvenuto al Cavaliere Sergio Brighenti, storico attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana. Io sono volentieri anche stato citravanti dal Sampdoria. Comunque volevo prima di tutto salutare gli sportivi che ci seguono perché il campionato sta veramente svolgendo in un modo fantastico. Ci sono sette squadre che lottano per le prime posizioni. Sette. In certo fino alla fine. Buonasera e un saluto anche a Mauro Corno, scrittore ed editor in CIF di Sportal.it. Buonasera a tutti, sono stato centravanti anch'io, ma a livelli infimi per cui non cito neanche le squadre. Però magari una coppia Corno-Brighenti con dietro Luca Di Benedetto. Ma molto dietro. Molto dietro perché, beh, Luca, ricordiamolo, tu hai giocato a calcio a buoni livelli. Mezzara, dai, mezzara, c'è un regista retrato. Potresti giocare in difesa del Napoli, forse, tu. Eh, a posto di Albiolvero, non di Goulibaly, ma di Goulibaly è piuttosto. Eh, Goulibaly è fisicamente messo meglio, eh. Avevo la voglia. Ma io ero uno che quando c'era la rissa io scappavo via. Era uno di quelli che, capito? Magari aizzavo, però dopo subito scappavo. Sì, 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 beh, giustamente, ce ne sono tanti. Comunque di questo tipo, partiamo chiaramente parlando della Juventus, perché manca sempre di meno al big match di Champions League contro Bayern Monaco. Allegri ha detto, sarà la partita decisiva questa sera per decidere se riusciamo a passare il turno o meno, se potremo passare il turno. È d'accordo con lui, evidenti? Ha detto una cosa sacrosante, però hanno fatto il miracolo. Bisogna dire, arrivare dove sono arrivati, in questo momento, al primo posto, con un punto di vantaggio sulle altre, che erano davanti di tanti punti, estravolcendo la formazione in momenti anche pericolosi. Veramente un applauso per l'allenatore. Allegri, bravo. Ecco Mauro, quando sono stati effettuati i sorteggi, la Juventus partiva nettamente favorita. Adesso alcune defezioni da parte del Bayern Monaco, e questo grande sprint che hanno avuto i bianconeri negli ultimi mesi, fanno sì che invece i tifosi juventini credano e come nel passaggio del turno. Assolutamente sì, nel momento del sorteggio le percentuali per la Juventus sono veramente infime, un 10% si poteva dare col passare del tempo. La Juventus è migliorata molto in campionato, ha trovato una quadratura, e quindi oggi se la gioca, ha detto bene Allegri, stasera secondo me non si gioca soltanto per la Champions League, ma anche per il campionato, perché se la Juventus dovesse perdere malamente a quel punto, credo che metterebbe nuovamente le mani sullo scudetto. In caso contrario, con 1-0-0, che lo stesso Allegri vede come un risultato positivo, e questa già la dice lunga, perché tu comunque giochi in casa, quindi magari un gollettino potresti anche pensare di farlo, invece ti accontenti di chiudere a reti inviolate, a quel punto rimarrebbe anche il campionato da giocare per queste settimane e poi si vedrà. Luca, lo 0-0 sarebbe un buon risultato, e ha ragione l'AM, l'AM ha detto che non ci sono favoriti 50% di entrambe le squadre. Oggi nel calcio moderno, lo 0-0 in casa, nelle partite di Coppa viene considerato un ottimo risultato. Una volta ricordavo ad esisti tempo fa, che negli anni 70-60, quando giocava in Coppa, si puntava a vincere, a fare più gol di tutti in casa, per poi dopo andare là e magari fare le barricate. Oggi invece lo 0-0 viene considerato un risultato positivo. Io credo che non sia decisiva la partita di oggi, quando giochi su 180 minuti, 90 non sono mai decisiva, a meno che non fai tantissimi gol, non le pedi tanti. E allora sì, altrimenti non è così. Che tipo di partita deve fare la Juventus? Deve attaccare, deve aspettare l'avversario? No, 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 la Juventus non attacca sicuro. È proprio il problema che io conosco Allegri da tanti anni, sia come giocatore che come allenatore. Lui è molto meticoloso nei compiti dei giocatori. E sono sicuro che, in base a come si presenterà il Bayern Monaco, chi deve marcare, chi deve tenere, chi deve saltare la zona, e soprattutto chi può mandare all'attacco per cercare la rete. Questo è il problema. È un gioco, secondo me, più a tavolino che in campo. E tra l'altro, a proposito di tattica, lo stesso Guardiola, Mauro, ieri in conferenza stampa, ha spiegato come la sua squadra giocherà in modo leggermente diverso rispetto al solito. Chiaramente proveranno a sognare più gol possibili, ma ci si deve aspettare un qualcosa di nuovo. Ci dobbiamo credere? Ma sì, Guardiola ovviamente mette anche un pochino le mani avanti. Lui ha ribadito più volte il fatto che comunque ha soltanto due centrali difensive a disposizione. Guardiola è una vecchia volpe, ha giocato anche in Italia e sa come funzionano le cose. Ti può aspettare di tutto un Bayern Monaco perché è una formazione che ha talmente tanti giocatori di qualità che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. La Juventus, secondo me, deve partire in maniera piuttosto bloccata, ma soprattutto verificare un po' la tenuta di questa difesa un po' inedita da parte dei bavaresi. Perché Dybala è il giocatore che, secondo me, può dare fastidio a questi due, a questo BNTA e Tashi, che non sono dei fumi di guerra. È chiaro che poi, con il passare dei minuti, la Juventus si renderà conto se di fronte a un Bayern Monaco pericoloso o un Bayern Monaco disposto anche a giocare a sua volta coperto. Il rischio è veramente che sia una partita bloccatissima, quella di stasera. È un classico 0-0 in cui comunque... Ci si gioca tutto a ritorno. Sì, che appunto, come diceva giustamente lui, uno 0-0 per la Juventus sarebbe anche un risultato non negativo contro una squadra che comunque è più forte. Chiaramente poi rimarrebbe tutto aperto. Luca, ti chiedo, Dybala potrebbe essere l'uomo decisivo, come diceva Mauro, per quanto riguarda la Juventus? O magari ci si deve aspettare qualcosa anche dai centrocampisti? Perché sappiamo che Allegri le prepara in modo minuzioso queste partite e magari può tirar fuori il classico coniglio dal cappello. Beh, dai centrocampisti quello che può fare gol è Pogba. Perché poi Marchisio che fa due o tre gol all'anno, quest'anno tra l'altro ha giocato molto meno e ha anche fatto meno sotto l'aspetto, diciamo, delle realizzazioni. Dybala sicuramente lui è quello che ha fatto più gol nella Juventus quest'anno e è uno che ha in possesso, insomma, di un repertorio tecnico di vaglia ed è un giocatore che tra l'altro forse magari in Germania ancora non conoscono molto bene, avendo giocato a Palermo e magari in formazioni minori argentine. Quindi può essere senz'altro lui la chiave per scardinare insomma l'arretroguardia del Bayern di Monaco. Cavaliere, le due squadre sono affrontate anche nelle passate edizioni della Champions League. Allora c'è qualche similitudine, nel senso che Einkes avrebbe lasciato al termine della stagione, già lo sapevano tutti in Baviera, forse l'ho detto lo stesso Buffon, la stessa Juventus aveva tra virgolette sottovalutato l'impegno pensando che fosse più facile del previsto, poi i bavaresi si imposero per 2-0 a Torino e vinsero anche in casa e al termine di quella stagione poi i tedeschi trionfarono proprio in Champions League. Ci può essere anche questa volta il pericolo, tra virgolette, che si sottovaluti l'avversario e per le assenze perché Guardiola a fine anno andrà a Sidi? Può esserci, ma però il punto debole dove la Juventus sfonderà sono le fasi laterali. Secondo me, diciamo così, coprendo le fasi laterali supereranno in velocità perché sono lenti i difensori del Bayern e poi ci sarà il centroavanti che se è in giornata metterà la palla dentro. Questo è il gioco che farà sicuramente Allegri. Questo almeno l'ho visto in tante altre occasioni e ci è riuscito. Eh sì, che è sempre bene. Che ci ricagli questa volta. Però accentrando il gioco, forse per me non sfondo, sono le fasi laterali di fuggire con... C'è dei velocisti, è la Juve, quindi il cross e Manduzic... C'è anche Manzo che ci ha dato, potrebbe essere decisivo. Mauro, ti chiedo, Chedira o Vidal? Perché chiaramente tutti lo sanno, ma non è che ne sia stato parlato per così tanto in questi giorni, degli ex di questa partita. Da una parte c'è per l'appunto sia Coman che Vidal che hanno vestito e bene la casacca della Juventus e Chedira che è sempre stato vicino al Bayern Monaco e poi invece ha firmato proprio per la squadra bianconera. Ma sai, un rientro molto importante quello di Chedira per la Juventus, perché è un giocatore di carattura internazionale ed è abituato a giocare le coppe. Venerdì sera contro il Bologna, secondo me, è proprio lui il giocatore che è mancato al centrocampo bianconero perché Pogba, lasciato comunque da solo, con un Marchisio, con uno Sturaro, fa maggiore fatica. Se noi pensiamo anche alle recenti vittorie della Juventus in trasferte in campionato, c'è sempre lo zampino di Chedira in queste azioni da gol, perché è un giocatore di livello comunque superiore che non possiamo comunque paragonare, per esempio, ad uno Sturaro. Tornando invece al discorso che facevi prima, secondo me non influirà il fatto che Guardiola abbia già annunciato che il suo futuro sarà lontano dalla Baviera perché Guardiola si è molto tedeschizzato, se vogliamo utilizzare questo vocablo, questo neologismo. Lui è appena arrivato, per esempio, lui si è presentato parlando il tedesco, sappiamo che per uno spagnolo parlare il tedesco non è semplice perché comunque sono due lingue completamente differenti. Il Bayern rimane comunque una società tedesca, una mentalità tedesca. In Germania tu ti puoi permettere di annunciare che il tuo allenatore andrà da un'altra parte già a gennaio, in Italia no perché siamo molto più emotivi ed umorali, per cui questo è un fattore che secondo me non va neanche preso in considerazione. Questi non sanno neanche veramente chi li allena all'anno successivo che giocano comunque alla stessa maniera. E tornando al discorso di Vidal, invece Luca, se dovessi creare una squadra, prendi Vidal o prendi Chedira? No, prendo Vidal. Poi dipende che giocatore ho in organico, perché se mi serve uno come Chedira, allora prendo Chedira, però dovessi scegliere e andrei a prendere Vidal, anche perché è un giocatore a tutto campo che ti garantisce comunque 8, 10, 12 gol all'anno, cosa che Chedira no, non fa, non l'ha mai fatto. Poi Chedira comunque ha problemi fisici, ha subito grandi infortuni nel corso della carriera, adesso sta giocando con un po' più di continuità quest'anno a Torino, ma comunque sempre parliamo di metà stagione all'anno riesce a giocare, quindi è assolutamente Vidal. Vagliere, secondo lei è meglio la Juventus di questa stagione o invece della passata annata? Perché ricordiamola, la Juventus l'anno scorso... Passata annata è senz'altro minore. Mentre questa stagione per me è miracolata da Allegri e anche da Marotta che ha trovato molti sostituti, perché una rivoluzione inclusiva di Juventus durante l'annata e tenere il campionato ancora in tesa era difficile trovarlo, molto difficile. Sei d'accordo Mauro? Sì, sono completamente d'accordo. La Juventus ha perso tre giocatori fondamentali, Vidal, Tevez, ma secondo me soprattutto Pirlo. Pirlo è un patrimonio del calcio italiano, il giocatore che per anni e anni ha fatto la differenza in questo Juventus, quello a cui davi la palla e sapeva tenerla, sapeva dove metterla, quello che risolveva anche le partite con una punizione, insomma è un autentico fenomeno. Il problema della Juventus all'inizio del campionato è stato proprio la mancanza di Pirlo, nella maniera più assoluta secondo me. E tu Luca, ricordiamo che è vero che l'anno scorso la Juventus è arrivata in finale di Champions League, ha rischiato di conquistare il triplete, però anche quest'anno 15 vittorie di fila, poi il pareggio contro il Bologna, finale di Coppa Italia praticamente certa, a meno che non ci sia un ribaltone contro l'Inter, ma si parte dal 3-0 di Torino, quindi anche lì la Juventus praticamente vede la finale, è vero che c'è il Bayern Monaco, è vero che è come se fosse una semifinale, l'hanno detto entrambi gli allenatori, però la Juventus c'è sempre. No, appunto, è difficile giudicare quale squadra fra le due, anche perché siamo a stagione in corso, bisogna vedere se gli obiettivi poi verranno centrati. È chiaro che se dovesse vincere lo Scudetto e arriva in fondo alla Champions, probabilmente quest'anno con la rivoluzione che è stata fatta dalla dirigenza e con l'avalo dell'allenatore è sicuramente un'impresa rispetto all'anno scorso, che era una squadra già consolidata, anche se poi arrivò l'allenatore in corsa, relativamente in corsa, perché dopo pochi giorni del ritiro. Quindi aspettiamo per giudicare, secondo me, qual è la squadra più forte degli ultimi due anni. Chiudiamo il capitolo relativo a Bayern Monaco-Juventus, anzi, a Juventus-Bayern Monaco con un pronostico secco da parte di tutti e tre, come c'è quella che va a dire? Io pareggio. 0-0 0-0 anche per me. 0-0, infatti, è il risultato, diciamo, più gettonato. Dopo un doppio fischio per noi, torniamo fra pochissimo.